La lezione conclusiva sui linguaggi della comunicazione visiva affidata al noto regista di cinema e tv Pino Sondelli ha chiuso oggi a scalea il corso di giornalismo televisivo che in questi mesi ha condotto 20 studenti del liceo scientifico Metastasia alla realizzazione di un vero telegiornale scolastico. Sono stato molto soddisfatto personalmente di aver incontrato questi ragazzi oggi. Ragazzi decisi, attenti perché l'argomento di cui abbiamo trattato, quindi la comunicazione, credo che sia molto ma molto importante che venga approfondito nel modo migliore quindi creare principalmente l'interesse su questo tema della comunicazione. Il Metastasio News, così si chiama il Tg Girato, negli studi di Rete3 è stato curato interamente dai ragazzi che hanno realizzato i servizi giornalistici, li hanno montati, hanno condotto il telegiornale ed hanno perfino prodotto la grafica e la musica della sigla. Il risultato è stato giudicato positivamente da una giuria composta oltre che dal pluripremiato regista e direttore della fotografia Sondelli, anche dalla preside del Metastasio Elena Cupello, dai docenti del liceo e dai tutor del corso. Il corso rientra tra i progetti di alternanza scuola-lavoro finanziati da Regione, Calabria e Unione delle Camere di Commercio. Per questo ha previsto una lunga sessione di stage negli studi di Rete3 a Preammare dove i giornalisti in erba hanno lavorato gomito a gomito con i tecnici e i giornalisti che li hanno aiutati, guidati, sostenuti e spesso presi in prestito per le vere attività della televisione, utilizzandoli come cameramen e come redattori per i programmi della rete. Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica del liceo scientifico di Scalea Pietro Metastasio Elena Cupello. Il prodotto finito mi sembra che sia veramente molto buono e quindi chiederemo una prosecuzione del progetto anche per l'anno prossimo. Ed infine il consiglio di Sondelli. Oggi nell'informazione principalmente è importante il contenuto, la verità del contenuto dell'immagine. E' chiaro che la qualità artistica, se vogliamo definirla così, si acquisisce nel tempo. Quindi si migliorerà la parte artistica dell'immagine ma l'importante è la forza del contenuto del servizio.